E' bianca, simbolo eterno di candore e in questo caso emblema dello Spirito Santo. La colomba, il cui volo da secoli nella Domenica di Pentecoste regala agli orvietani non pochi colpi di scena, incarna un forte attaccamento a una tradizione popolare antichissima. Uno spettacolo sulla piazza del Duomo dove ogni anno si svolge il tradizionale evento che consiste in qualcosa di molto breve e al tempo stesso di molto intenso. Istituita agli inizi del 1400 dalla nobildonna Giovanna Monaldeschi della Cervara, con il suo pittoresco rituale, la festa vuole rappresentare la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna. Una bianca colomba, legata con nastri rossi a una raggera, discende lungo un cavo d'acciaio teso fra il tiburio della chiesa di San Francesco e un cenacolo, allestito davanti alla porta maggiore della cattedrale. Quando la palombella, al termine della sua corsa, giunge al cenacolo, come pittorescamente annota un antico cronista, si incendiano i mille bocchi. Una nutrita salva di mortaretti che sulla testa della Madonna e degli Apostoli accende le rosse fiammelle di cui parlano le sacre scritture. Come da copione, la festa prevede che a mezzogiorno in punto il vescovo sventoli un fazzoletto bianco dal balcone del palazzo dell'Opera del Duomo, così che la colomba, simbolo dello Spirito Santo, inizi la sua roboante discesa. È buon auspicio che la colomba percorra tutta la via Maitani senza mai fermarsi. Secondo antiche superstizioni, infatti, se si arresta lungo la strada, segue un anno di sventure. Se tutto fila liscio, come di solito accade, il volatile viene liberato, visitato e dato in dono all'ultima coppia di sposi dell'anno, che hanno il compito di prendersene cura finché sarà in vita.